e c'è già il trailer in giro. Non me l'hai detto? No, te lo faccio... Perché non mi hai contato? Tu mi hai chiamato perché non ce l'ha posto per tutti e due. Guardiamo il trailer del primo film padano. Era tornato per coltivare la terra e per farsi una famiglia. Era il bel buco che ti spiega, Beppi. Sì, però faccio il male nel momento... E chi è stato da chi ha metter una proposta? Il suo sogno era un mondo di pace con la donna che amava. Anche me lo rega la casa dei fiori, ma... Ha restato inutile nella libertà. Ma il suo destino le era segnato. Tornia baica a Interogna! Vieni! Stiamo a perdere i fiori della padagna! E combatterò perché resterà appena Gimpe di Roma! Centinaia di soldati erano pronti a combattere al vostro fianco. Sono che per combattere Mörer, per te. Dai, liate, liate, anche con il mio chignore. Gnari! Si procede a combattere? Scusami, non è che si può rimanere un panetto prima? Lo fa, non è abuso. L'eroe che gesta del nome e del suo popolo, pronti a Mörer per la libertà. Così mi buttai il gavino dei cracker! Ambientata nelle rigogliose terre della padania, una vincente storia interpretata dai nostri migliori attori. Il Tito, l'Ivo, la Franca e il Fabio. I progetti a combattere? I progetti a gridare ai nostri amici che il bel portavi a te anche la vita, ma no la nostra libertà, che è l'amore! Fabio Bu e il coraggio Grazie!